Siamo con il Bad Boys, con il mister, direttamente da Real TV, visto che è un tuo giocatore, è rimasto chiuso in bagno e i pompieri tra un po' per tirarlo fuori. Sì, è un attimo in difficoltà il Stato e adesso stanno vedendo un po' di tirarlo fuori, tra l'altro il portiere, quindi... Anche la protezione civile l'ha chiamato. Sì, sì, Bertolaso è venuto direttamente, sta arrivando. Allora, mister, a parte gli scherzi, presentaci un po' la squadra, un po' i giocatori di questi Bad Boys, tu sei? Io sono Andrea Pezzella, oggi sono il mister e niente, abbiamo il capitano che è Carlo, il difensore centrale, insieme a Ax, terzino destro Ale, d'Agostino, terzino sinistro Marco, il portiere non l'abbiamo contato perché è ancora fuori. Avete cercato di chiuderlo dentro voi, dite la verità per farlo giocare. Prima della partita, esattamente. E in attacco abbiamo Vezza, il bomber, il Cobra e poi dietro abbiamo Siale che stè al centrocampo sulle fasce. Bene, allora anche a voi, bocca al lupo per un buon campionato. Grazie. Grazie. La partita di questa serata del Baggio, prima giornata, potremmo essere a San Siro a fare i tagli ad animarco, invece siamo qua con un vecchio amico che ha scampato il Milano Solidale, visto che non l'hai mai venuto a giocare, però stasera ti tocca a Faina a presentare in radico che affronta i Bad Boys. Te la sei legata al dito, Milano Solidale. Caro Rinaldo Badini, 16 ottobre, prima giornata di campionato, Bad Boys, non vi abbiamo mai sfidato, vi vedo con la coda dell'occhio in maglia verde, noi siamo in casa neri, abbiamo il Sire tra i pali, mancano Pelli e Depa, quindi scriviamo Dennis e il mazzuratore dietro, e vi ho detto tutto. Poi Tobago, Isoni, Bonny, Fines e Fabri. Siamo in 9, due cambi, 22 minuti per tempo? Esatto. Mi raccomando perché insomma, fare il play sempre, questo è quello che vuole Mara e Sportland. Ecco, per cui, insomma, in bocca al lupo per questa stagione, e mi raccomando Faina, quando c'è la nebbia, sempre attenzione con la maglia gialla. Possiamo giocare col pallone azzurro? Siamo con il pallone ufficiale del campionato. Va bene, grazie Faina, in bocca al lupo al radico. Avete anche un moto, qualcosa, un grido di battaglia dietro? No, due interviste Sportland Channel e abbiamo sempre preso le mazzate. Però è colpa tua quella, che fai perdere il tuo compagno. Poi congiuriamo. Lo fai due volte? Sì, la prossima volta. Sì, la prossima volta. Sì, la prossima volta. Oh, fatevi sentire! Sì, la prossima volta, ragazzi. Vieni, vieni, grazie. Sì, la prossima volta. Vieni subito! Marco, Marco! Dietro! Almo! Teniamo però le posizioni eh! Teniamo le posizioni! Almo! Marco, torna! Non usciremo! Vieni ragazzi! Vieni ragazzi, mi senti la becca! Vieni ragazzi! Vieni ragazzi! Vieni ragazzi! Vieni ragazzi! Sono ritorno di bella azione! Non scappiamo! Anche dietro! Anche dietro! Anche dietro! Bravo! Vieni ragazzi! Bravo! Guarda, guarda, guarda! A sinistra! Grazie! Bravo! 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 Dai 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 dai! Non è messa! Guarda a voltare! Guarda! Guarda tu da te! Bravo! Paio! Sì! Guarda, posizioni, dietro! Carlo, vai dentro anche te Carlo! bravo senti di lui senti di lui la passa tua Il deck è lì! Provala! Guarda, guarda! Guarda! Guarda, guarda! Tu a Carlo! Guarda, guarda! Guarda la sinistra! bravo 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 prova l'1-2 bravo guarda l'Ale tutta tira sinistro sinistro bravo 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 Marco bravo Marco vai bravo bravo uno deve salire occhio al lancio lungo andrà alle spalle andrà alle spalle esci 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 bravo 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 guarda Carlo guarda Carlo alziamo la testa bravo bravo Carlo andrà alle spalle andrà alle spalle numero bravo 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 Marco Marco esci te esci te copri te a Dale copri te a Dale occhio che tira tre va bene Ade va bene raggiù bravo Andri 2 a sinistra dai Marco Marco esci te Marco Marco esci te bravo punta da solo punta da solo va bene va bene va bene va bene dai Marco bravo vai vai Marco vai Marco va bene va bene bravo bravo Ale bravo Ale bravo Ale vado a bongard bravo 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 Ciaiale, ciaiale! Brava la Marco!